E' appena uscito il trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse, secondo film appunto della saga del Spider-Verse, il primo animato mi era piaciuto davvero tanto, vediamo un attimo. Sono molto curioso, esteticamente sembra davvero bello e adesso vedremo il trailer, ho paura un po' narrativamente che rovinino il primo, ma tranquilli, partiamo subito. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via. Ox, ben colorato. E' un po' da di pace so bene, nel наз Beh, è il recap del primo film. Tecnicamente è molto ben fatto. C'è un bordello di Spider-Man. C'è un bordello di Spider-Man. C'è un bordello di Spider-Man. Allora... Allora, non è affatto male, devo dire. È un primo sguardo, comunque, sì. Diciamo che era un po' psichedelica. Come è montato il trailer non mi fa impazzire, però comunque... Mi interessa, se dico montato, non so, con loro che parlano intanto, esce il primo film, poi queste qui... Però ci sta, non lo so che cosa voglio fare, perché non si sa nulla, non si capisce nulla. Ci sta, è un'introduzione, funziona, dai. Speriamo bene per quel secondo film, speriamo mantengano un'idea come nel primo che mi era piaciuto molto. E niente, noi signori ci vediamo alla prossima. Arrivederci.